Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Angoli, con me la dottoressa Francesca Noli, biologa nutrizionista e il dottor Roberto Pusinelli, personal trainer e preparatore atletico. Allora, nella prima parte di questa puntata abbiamo dato un buon quadro generale e tirando all'estremi le somme il succo è che non ci sono vie di fuga, una buona pratica alimentare va portata avanti tutto l'anno come pure una sana attività fisica. C'è da dire che la prova costume ci trova molto spesso tutti impreparati e quindi forse può essere quella la chiave di volta che ci fa iniziare una buona abitudine alimentare come pure quella sportiva. Io avrei bisogno da lei, dottoressa Noli, di qualche buona pratica di suggerimenti per dei pasti leggeri, anche degli spuntini in questa estate. Molto spesso a volte lo stomaco si chiude ma l'effetto è quello che ci spinge verso magari dolci, gelati, magari cose anche caloriche. Diciamo, durante l'estate viene anche meno voglia forse di accendere il forno, di cucinare a gas, di mettersi ai fornelli molto spesso e quindi io consiglio di alternare diciamo i piatti così che normalmente si consumano con qualche piatto freddo che io posso anche diciamo preparare e tenere per un paio di giorni, magari conservare in frigorifero. Per esempio le cosiddette insalate di riso che possono essere anche a base di farro piuttosto che di pasta fredda o anche di couscous. Queste vanno sempre comunque abbinate con una buona quantità di verdurine, anche crude, tagliate fini fini piuttosto che sono anche i pomodorini che si possono tagliare in 3-4 pezzettini, i peperoni che posso se voglio far scottare diciamo al forno oppure usare anche questi peperoni magari sott'aceto. Ecco evitare invece le verdure sott'olio perché anche se scolo l'olio comunque sono imprise di olio e poi sono molto più buone, appetitose secondo me quelle crude, quelle fresche. Dopodiché ecco se preparo dell'insalata di riso per 4 persone per esempio, un'insalata di farro per 4 persone, io do sempre le indicazioni per mettere almeno 4 ingredienti, cioè un ingrediente, una dose di ingrediente per ogni persona più o meno. ecco, utilizzando per esempio si possono utilizzare non so prosciutto dadini, tonno, si può usare del pollo fatto appunto normalmente alla piastra e poi tagliato cubetti oppure del salmone anche cucinato e poi anche questo tagliato cubetti, delle olive nere, piccoline. Io eviterei magari l'utilizzo di formaggio soprattutto in una fase dimagrante perché un po' si confonde come colore con il riso, con il bianco e poi devo usare comunque un formaggio abbastanza stagionato che ha un apporto calorico piuttosto alto e quindi non mi rende in realtà l'apporto calorico che mi dà. Ecco, quindi starei più su dei legumi oppure come abbiamo detto le altre scelte. Mi sembra di intuire due parole chiave che ha detto, magari non ponendoci molto caso, però rivelano il suo approccio. Il fatto di tagliare a cubetti molto fini i pomodori e del formaggio che ha il colore che si confonde sul riso. Allora è vero che anche mangiando l'occhio vuole la sua parte? Certamente, noi mangiamo anche con gli occhi e quindi è molto importante. Anzi nel libro c'è una parte che è dedicata proprio a questo tipo di approccio e si chiama la portion distortion perché siamo molto ingannati anche dai colori, dai piatti piuttosto che appunto dal colore delle tovaglie e quindi sono strategie che anche queste bisogna conoscerle in alcuni casi per metterle in pratica e in altri appunto per evitare di farci ingannare da questo, per esempio anche i contenitori delle bevande e così via. Quindi è sempre parte di quel discorso che dicevamo prima della consapevolezza, cioè rendersi conto di. Certo, quindi come dire, per l'insalata un po' qualche istruzione l'abbiamo data, un'insalata di riso non è necessariamente magra, va considerato quello che ci si mette dentro, ma un gelato che alla fine sembra anche un pasto, un sostitutivo, a volte si esce a pranzo e la risolvo con un cono. Ecco, anche qui tante persone in questo libro mi chiedono proprio questo, ma io posso per esempio visto che sono in un regime dimagrante sostituire? Mi dico no, anche in una fase dimagrante, poi diciamo ci sono proprio le foto che lo indicano molto bene, in realtà diciamo un cono piccolo non ha un apporto calorico molto elevato, direi che la cosa migliore è sostituirlo con una delle porzioni di frutta previste nella giornata e al limite sto un po' indietro con un pezzettino di pane. Se è un cono medio, quindi con due palline per esempio, in questo caso ecco, oltre alla porzione di frutta andrebbe insomma dimezzato o comunque sì, sicuramente è sostituito una buona parte della quantità di pane prevista nella giornata in una fase dimagrante. Ma la strategia può essere questa, cioè non togliere tutto nello stesso giorno, magari inserisco il gelato al posto della porzione di frutta e il pane lo posso diminuire il giorno prima, il giorno dopo, metà in un giorno e metà in un altro. In questo modo succede che anche il potere saziante non è troppo diminuito, perché l'aspetto molto importante nelle programmi di dimagramento è proprio l'aspetto saziante. 1200 calorini non vogliono dire nulla, devo andare a vedere i volumi, quindi l'apporto di fibra è la ragione per cui una centrifuga non è lo stesso di una verdura. Quindi sono tutti aspetti che vanno considerati soprattutto in una fase dimagrante. Ha perfettamente ragione, io proprio a livello psicologico le centrifughe non riesco a farmele andare bene. Tornando invece all'aspetto fitness, Roberto, siamo arrivati alla prova costume, siamo in spiaggia, ma non è finita lì, perché magari ci concediamo una settimana di vacanza in un villaggio turistico piuttosto che in montagna. Anche quello è un momento da sfruttare, forse proprio per conoscere delle discipline, degli sport di cui non eravamo a conoscenza, ormai vanno di moda, proprio creare l'appuntamento che ci fa conoscere anche degli altri vacanzieri, siamo tutti assieme. Allora, come sfruttare questi giorni di riposo per scoprire uno sport? La cosa bella è che il mare e la montagna offrono tantissime opportunità per praticare sport, e per praticare sport magari durante tutto l'anno non riusciamo a praticare. Noi siamo fortunati perché comunque avendo il lago qua vicino possiamo comunque praticare un sacco di sport acquatici, quindi dal canottaggio, la canoa, il windsurf, la vela, quindi abbiamo già delle opportunità in più rispetto ai nostri amici cittadini, diciamo. La cosa importante è quella di cercare, prima di tutto, un istruttore preparato che ci sappia insegnare quella disciplina e poi iniziare magari dopo due o tre lezioni anche a praticarla da soli. Quindi potremmo cominciare a lavorare su tutto il nostro corpo, quindi con un consumo calorico abbastanza elevato, utilizzando ad esempio la canoa, il canottaggio, oppure potremmo divertirci in spiaggia giocando a beach volley, stando attenti però a quella che è l'idratazione, perché sotto il sole comunque sappiamo benissimo che i liquidi vengono ridotti in maniera molto copiosa. Un'altra cosa che possiamo fare durante l'estate è magari quella di dedicarci agli sport direttamente in acqua, tipo il nuoto, lo snorkeling e per chi è un pochettino più avvezzo all'avventura potrebbe praticare l'apnea, ad esempio. Sono sport molto belli, ci tengono a contatto con la natura e ci permettono comunque di avere un buon consumo calorico e un'attivazione della muscolatura. Andando verso la montagna possiamo praticare nordic walking, ad esempio, potremmo praticare la camminata, perché comunque camminare in montagna è veramente intenso, in alcuni casi è quasi più intenso che andare a correre in pianura. Potremmo praticare la corsa, addirittura ci sono delle discipline che vengono fatte in montagna, tipo le skyrunner, dove i particolari, i partecipanti vanno a correre per più chilometri cercando di raggiungere una vetta. Anche qua bisogna stare attenti, perché soprattutto nella fase di discesa si può incorrere in piccoli o grandi infortuni e quindi la cosa importante è sempre affidarsi a una persona che sia capace e che ci sappia insegnare quelle che sono queste discipline. E magari così, rimaniamo innamorati di uno sport e ci promettiamo a settembre, con la stagione autunnale, di continuare il buon proposito che abbiamo intrapreso in vacanza. Un'ultima domanda per lei, dottoressa Noli. E anche questa è un po' provocatoria, perché sarà forse così il marketing che ce li sta sempre più proponendo come scorciatoie per essere in forma. Non c'è solo, come dire, un regime alimentare, ma anche altri aspetti, ad esempio il gambo di ananas, quindi uno degli integratori forse più famosi. Ultimamente anche delle creme cosmetiche che promettono di farci ridurre, quantomeno la circonferenza, non si sa se effettivamente consentono proprio ai chili di scendere fisicamente. Lei che cosa ne pensa, senza entrare nel merito di uno o dell'altro? Sì, certamente. Fanno parte un po' dei titoloni che si trovano anche sui magazine, soprattutto femminili, a effetto, che soprattutto caricano un singolo cibo, piuttosto che appunto un'erba, di proprietà miracolose. Dobbiamo avere invece una visione più d'insieme, sia del nostro corpo che della nostra salute. E quindi, io dico non purtroppo, ma per fortuna non ci sono appunto dei ritrovati miracolistici, ma questo, pensando appunto a un discorso di un percorso in cui una persona è protagonista in realtà può portare il fatto di raggiungere man mano gli obiettivi ad aumentare la propria fiducia in se stessi, la propria fiducia anche nell'affrontare le varie situazioni, anche diciamo quelle più difficili, come uscire con gli amici, fare gli aperitivi d'estate, insomma, sono situazioni che man mano si imparano a gestire. Questo, ripeto, dà una persona una fiducia che è forse l'aspetto più importante di un percorso appunto di dimagramento o comunque di un percorso di riequilibrio alimentare. Ecco, direi che ci potremmo lasciare proprio con quest'idea di acquisizione della fiducia di cui si può iniziare a coltivare in vacanza e poi portarsela dietro come dono anche a settembre. Con questo approfitto per rinvitarvi subito con la prossima stagione per darci dei consigli che potremo seguire anche già in vista delle abbuffate natalizie. Io vado oltre. Grazie mille per essere stati con noi, dottoressa Noli e Roberto Pusinelli. Adesso saluto i telespettatori, come sempre li lascio alla rubrica Il lavoro che vorrei e poi a tutte le notizie di ITG. Con Angoli ci vediamo domani. Grazie mille per aver guardato il video.